Vengo da un'ottima condizione e quindi sicuramente la prima cosa al domani cercherò di fare una bella gara. Il Golden Gala mi ha creato una bella gara, quindi cercherò di attaccarmi e provare a fare del mio meglio. Poi se arriva il record ancora meglio, però sicuramente non mi ossessiono a cercare il record perché comunque bisogna solo pensare a correre e poi dopo quello che viene, speriamo comunque una bella gara. Di solito non è che inizio a prepararmi giorni prima le tattiche così, sono solamente super eccitato di correre una gara così, con dei campioni così, con Inge Brizzen, c'è un australiano forte, poi ci sono altri atleti. Per me è solo uno stimolo in più per correre forti, per cercare di arrivare vicino, se no batterli e basta, solo quello.